La protesta degli studenti diventa motivo di polemica tra gli enti locali. Arriva oggi, tramite una nota stampa, la dura replica del presidente della provincia Roberto Vasai alle dichiarazioni uscite ieri da Palazzo Cavallo in merito alla manifestazione dei ragazzi del liceo classico di Arezzo sulla mancanza di palestre per svolgere le ore di attività fisica. Credo sia serio e responsabile, scrive Vasai, non palleggiarsi le responsabilità ma affrontare le questioni in maniera costruttiva. La frecciata è rivolta all'amministrazione comunale di Arezzo che ieri, a seguito dell'incontro tra l'assessore allo sport Francesco Romizzi e i rappresentanti degli studenti, aveva diramato una nota stampa in cui veniva precisato, in relazione ad alcune polemiche che nel marzo scorso aveva comunicato all'ente competente la decisione di assegnare la cosiddetta palestrina di San Lorentino al quartiere di Porta del Foro. L'ente competente in questione è proprio la dirimpettaia di Palazzo Cavallo, la provincia, che tramite le parole del presidente risponde è vero che il comune di Arezzo ci aveva annunciato la sua intenzione, ma è altrettanto vero che noi, dall'ora in poi, abbiamo detto con chiarezza che non eravamo in grado di trovare una soluzione alternativa. Vasai, che sostiene le ragioni degli studenti e il loro diritto a protestare, spiega «Non ho nessuna intenzione di scaricare le competenze che sono del mio ente su altri, ma è necessario precisare che quella palestra, così come altre, con il passaggio delle competenze sulle scuole superiori alle amministrazioni provinciali nel 1996, è diventata parte delle strutture a nostra disposizione, oggetto di convenzione con il comune di Arezzo, che comunque ne mantiene la proprietà». Ci siamo trovati di fronte invece ad un atto unilaterale, prosegue Vasai, che ha creato una situazione di disagio per gli studenti, per la quale, come più volte ribadito, noi non siamo in grado di trovare un'alternativa.